Raffa Toloi, come stai? Anche se questi due amichevoli ho potuto giocare un po', quindi questo trasmette ancora più fiducia, la caviglia va bene, sto bene, devo ovviamente migliorare la parte fisica che sono fermo già da quasi tre mesi fermo, però sono molto contento e soddisfatto di essere già con il gruppo e di stare lavorando e bene. L'Atalanta che sta lavorando duro, che sta sudando tanto, insomma state lavorando bene in questo ritiro che come hai detto anche tu è fondamentale per la stagione che ci aspetta. Sì, abbiamo un gruppo di ragazzi molto intelligenti che sanno che questo periodo è molto importante e come ho detto sono contento perché ho potuto iniziare facendo tutto con la squadra, praticamente non ho saltato nessun allenamento e questo è molto importante per me che sono fermo da un po', ma anche per i ragazzi perché tutti sanno quanto è importante questo momento, anche se soffriamo un po', diciamo così, ma è giusto, è giusto lavorare, lavorare forte perché dopo fare la differenza, durante le stagioni, quindi noi vogliamo fare un'altra bella stagione, quindi è molto importante lavorare in questo momento. Anche perché lo dice la storia, la stagione più importante dell'Atalanta dal 1907 ad oggi? Da quando sono qua ogni anno è diventata la stagione più importante, ma sicuramente questa è molto importante, avere la possibilità di giocare la Champions è una cosa molto bella per noi giocatori, per la città, per tutti. E quindi dobbiamo essere pronti al massimo, dobbiamo lavorare e essere al 100% perché l'Atalanta quando gioca, quando entra in campo, entra per fare il meglio e entra per fare il suo gioco con fiducia contro chiunque sia l'avversario. Sappiamo che la Champions sarà molto dura contro avversari molto forti, però noi vogliamo arrivare per poter competire al meglio. Eri a Roma in occasione della finale contro la Lazio, eri anche a Sassuolo in occasione della partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia e ovviamente esplosa anche la gioia di Rafa Toloi in campo. E cosa ti hanno detto in Brasile quando sei andato in vacanza a casa? No, no, è stato molto bello, queste due partite, tanto la finale di Coppa come l'ultima partita a Reggio Emilia, è stato molto bello. Io volevo esserci in campo, volevo esserci o meno in panchina vicino ai miei compagni, perché quando sei fuori non puoi aiutare. Non puoi neanche entrare nei spogliatori, perché se entri spogliatori ti vedono lì un po' con la testa bassa, perché volevano dimostrare un po' di tristezza. Non potevo fare questo perché non era bello per i ragazzi, ma dopo è stato bellissimo. Purtroppo non abbiamo vinto la Coppa, è successo quello che è successo, però è stata veramente una gioia andare in Champions. Anche se io non ho potuto giocare quello finale, oggi già essere con i miei compagni lavorando e sto lavorando bene per cercare. Però hai costruito anche tu questo successo e questo traguardo, c'è anche la tua firma in questo risultato. Sì, ovviamente sì, però noi giocatori e calciatori vogliamo sempre esserci in campo, ma come ho detto, è importante che adesso sono in campo già, e sto lavorando, sono molto felice, voglio tornare forte e sono molto motivato per fare una bella stagione, per aiutare i miei compagni, per giocare bene, per anche essere un motivo di ringraziare tutti i tifosi che sono stati veramente meravigliosi con me in questo periodo difficile che ho passato, anche nell'ultimo giorno a Reggio Emilia, che è stato molto bello quello che ho vissuto. Quindi l'unica cosa che voglio fare è lavorare al massimo e stare al 100% per entrare in campo e dare tutto per loro e per l'Atalanta.